Buongiorno, benvenuti nella nuova rivoluzione industriale. Il mio compito è di presentarvi la giornata e di portarvi alcuni spunti di riflessione. Iniziamo con i ringraziamenti. Uno in particolare al governatore della regione Lombardia, Roberto Maroni. Buongiorno, benvenuto. Non solo come gradito ospite, ma anche come prestigioso relatore. Un ringraziamento alle numerose istituzioni, alle persone che oggi dedicheranno tempo a noi, a questo evento, per le istituzioni. Un benvenuto ringraziamento ai nostri illustri relatori e sono sicuro che ci porteranno un grandissimo contributo. E un grazie a voi, i protagonisti della nuova era di Internet. Questa è stata per noi una settimana incredibile. In questa settimana a Milano, in Italia, la Cisco Italia ha ospitato 95 paesi. 7.000 partecipanti. Il ventiquattresimo anno, dove Cisco Live, il più grande evento di Cisco, per la prima volta è avvenuto in Italia. Abbiamo anche investito sui giovani. Abbiamo lanciato un programma che è chiamato Cisco Academy Day. 500 studenti in questa sala, più di 8.000 studenti collegati in streaming, hanno condiviso insieme a noi la nostra visione e la nostra strategia, la nuova rivoluzione industriale. Un momento particolarmente importante. E voi sapete quanto è complicato, ma quanto ci riempie di orgoglio, essere stati capaci come organizzazione italiana di portare il mondo in Italia e a Milano. Questi giovani, questi ingegneri, il 90% delle persone che hanno partecipato erano ingegneri, sono tornati oggi a casa. Gli studenti penseranno in un modo diverso al loro futuro e questi 7.000 ingegneri costruiranno, grazie alla nostra visione, la nostra tecnologia, il futuro delle più grandi aziende in Europa, Middle East e Africa e delle pubbliche amministrazioni di 95 Paesi. E questo per noi è un risultato particolarmente importante. Oggi, questa mattina, la dedichiamo invece al nostro Paese, all'Italia. Penso che la nuova rivoluzione industriale, una nuova visione di Internet, straordinariamente più grande rispetto a quello che abbiamo visto fino ad ora, possa essere possibile e necessaria al nostro Paese, alle nostre aziende, piccole e grandi, alle nostre amministrazioni, un'opportunità straordinaria. Da mesi stiamo lavorando sul nostro piano industriale e penso che abbiamo le caratteristiche come struttura economica e come possibilità e capacità di innovare, possiamo entrare tra i primi in questa nuova rivoluzione. Ed è per questo che oggi vogliamo discutere con voi di questo tema. Vogliamo guidare questo processo di trasformazione e sappiamo che non lo possiamo fare da soli. La nostra agenda è proprio costruita in questo modo. Abbiamo degli accademici, abbiamo dei leader di business, abbiamo le istituzioni e insieme discuteremo sull'opportunità che abbiamo davanti a noi, non solo per il futuro, perché vedremo la visione, vedremo la visione di Cisco, vedremo la visione delle nostre industrie, ma vedremo anche quali straordinarie possibilità sono già oggi disponibili per affrontare questa nuova rivoluzione. Come sempre, come è nostra tradizione, non lo facciamo mai da soli. E ringrazio i nostri sponsor IBM, Philips e Intel, che molto velocemente, quando abbiamo parlato di questa opportunità, hanno accolto il nostro invito e hanno accolto la volontà di poter cambiare e di rientrare in questa nuova rivoluzione. I nostri media partner, le associazioni e le istituzioni che attraverso il loro patrocinio hanno sostenuto il nostro evento. Bene, io vi auguro una grande giornata, un in bocca al lupo e lascio di nuovo il palco a Barbara. Grazie mille e buon lavoro.